Musica Consiglio Comunale approva i debiti fuori bilancio ma non le variazioni finanziarie sui tributi. Si ritorna dunque in aula il 30 e il 31 marzo in seconda battuta. La maggioranza lascia di nuovo a piedi foto e a sole 24 ore dalla discussione sull'area vasta. Giusto il tempo di votare i debiti fuori bilancio che il numero legale cade. Solo 12 presenti tra i banchi della maggioranza che si sommano ai 4 dell'opposizione che fino a quel momento erano stati decisivi per la tenuta della seduta. La seduta che si apre con 19 presenti, 14 della maggioranza che nemmeno stavolta avrebbe avuto i numeri per la discussione. Il concetto è stato sottolineato dal consigliere Giordano. Ancora una volta ha precisato dovete ringraziarci. Il numero legale alla sospensione dei lavori di ritorno da una capogruppo diventa 22. Si va dunque all'appello nominale. I debiti fuori bilancio in riferimento agli alloggi comunali relazionati dall'assessore Emelia ai lavori pubblici tra cui parere di idoneità per l'immobile già sede del distretto militare di Avellino da adibire a sede degli uffici giudiziari del Tribunale di Avellino relazionati dall'assessore Preziosi passano per alzata di mano. Anche i tributi ce la fanno ad approdare in discussione ma non ad essere approvati. Sull'argomento caldo si scatena l'opposizione che stacca la spina facendo cadere il numero legale. La seduta viene sospesa per 10 minuti. 12 presenti in maggioranza, 4 dell'opposizione rispondono presente. 16 in totale. Il consiglio va in seconda convocazione. Si ritorna in aula giovedì pomeriggio per approvare gli strumenti contabili. In quel caso non servirà la maggioranza qualificata ma solo quella dei presenti. Il sindaco lascia l'aula furioso in particolare per la defezione del capocruppo Giacobbe. Crisi amministrative e politica siamo alle solite. I problemi restano gli stessi tra le file della maggioranza e del PD stesso. E bisognerà aspettare domani pomeriggio per la seconda convocazione. Diventato l'abitat naturale del consiglio per tentare di approvare il documento contabile che prevede diminuzione delle tasse, piano di rateizzazione per i tributi, assunzione di nuovo personale e mediazione tributaria. Insomma certo non un documento di scarsa rilevanza che potrebbe portare qualche sollievo ai cittadini ancora una volta messi da parte per beghe politico-amministrative.